Di un anno e mezzo, nella conduzione delle anatre corritrici, con la Daniela, che la conduce. Ogni razza è nata per uno scopo. Il Border Collie, in questo caso, è un cane da pastore che, ovviamente, la parola vuole, che aiuti il pastore nella condizione degli animali da reddito. Pecore, anatre, in questo caso. Lo Shiptog è diventato uno sport. Come tutti gli sport ci sono delle regole. Nello Shiptog, il conduttore chiede al cane dei comandi. In questo caso sono girare in senso orario, girare in senso anti-orario, mettersi giù e guidare le dritte. Con questi pochi comandi, il conduttore riesce ad indicare al cane dove portare gli animali. Le anatre corritrici riescono a stare in gruppo, quindi vengono usate per questo, perché non si dividono e sono facili da gestire. C'è da dire una cosa. Teda è un cane giovane. Come tutti i cani giovani in preparazione sono un po'... Applauso, approfittiamoci. La chiesa non è molto che lavora con le anatre. Gli inglesi dicono che per avere un cane pronto, sia fisicamente che mentalmente, nel lavoro con il vestiamo, non bisogna avere quattro anni, ma quattro anni di duro lavoro alle spalle. Il che vuol dire che il cane per quattro anni deve lavorare tutti i giorni. Daniela, che dici, le facciamo entrare nella lavatrice, visto che sono un po' sporche? Gli inglesi dicono che per avere un po' sporco, sia fisicamente che per avere un po' sporco, sia fisicamente che per avere un po' sporco.